Continua la guerra sul fronte russo-ucraino. L'aeronautica militare di Kiev ha dichiarato di aver distrutto una nave della flotta russa nel Mar Nero, sospettata di trasportare droni. Non è stato specificato il luogo dell'attacco. La battaglia continua anche con l'informazione. Kiev nega che i russi abbiano preso il controllo della città di Marinka, vicino a Donetsk, nell'Ucraina orientale, così come rivendicato dal ministro della difesa russo. Il portavoce dell'esercito ucraino ha detto che è sbagliato dire che la città è entramente controllata dai russi, facendo intuire che la battaglia è ancora in corso. Il portavoce ha dichiarato che la lotta per Marinka continua. Torna a farsi vedere Alexei Navalny, il dissidente ed esponente dell'opposizione russa, del quale la famiglia non aveva notizia da quasi tre settimane. Lo ha dichiarato la sua portavoce. Abbiamo trovato Navalny nella colonia penitenziaria numero 3 del distretto autonomo di Yamalo. Ha aggiunto che Navalny sta bene e il suo avvocato gli ha già fatto anche visita.